Amici di Android Blog, Asus Transformer Pad TF701T che sta girando queste immagini. Proviamo subito un controsole, torniamo a luci normali, andiamo a camminare per qualche passo per vedere quanto rimane stabile il video. Avviciniamoci al nostro vaso che ormai è pieno di erba secca. Non c'è il fuoco continuo, devo andare a fare un tap sullo schermo per mettere a fuoco, cosa non comodissima su di un tablet, ma d'altronde non è comodo neanche riprendere video su un tablet da 10.1 pollici. Muoviamoci un po' velocemente verso sinistra e verso destra, andiamo a fare uno zoom, un piccolo zoom possibile anche alla risoluzione massima, che è di 1080p, quindi Full HD. Per questo video è girato dalla camera posteriore da 5 megapixel di Asus Transformer Pad TF701T.